Ciao ragazzi bentornati su Ready2Play e bentornati con DIRT Oggi siamo qui ancora con la nostra Mini che stava gareggiando in Germania vi ricorderete stava gareggiando in Germania e stava vincendo in Germania perché avevano fatto due ottime prestazioni nelle prime due tappe che ci facevano ben sperare Oggi prima di continuare la Germania volevo un attimino cambiare panorama mettiamola così e fare un evento online Evento online è praticamente una gara a tempo dove si gareggia contro altri utenti Vi faccio vedere ad esempio ce ne sono diverse oggi una interessante potrebbe essere questa in Finlandia con la Ford RS200 tutt'altro che semplice perché la Ford RS200 non so se sapete ma è questo bel mostriciattolo qui Come funzionano gli eventi online? In poche parole ogni giorno su questa pagina di eventi online vengono caricate randomicamente dei rally nuovi e gli utenti praticamente di DIRT giocano uno contro l'altro cioè a turno partecipano alla gara e viene fatta una mega classifica finale con tutti i partecipanti online poi sulla base della media vengono dati dei punti quindi effettivamente anche questa gara ci può far guadagnare crediti che poi ci servono nella carriera perché in base a come ci piazzeremo rispetto agli altri utenti online avremo più o meno soldi la Ford RS200 è difficile da domare io non l'ho mai guidata in questo gioco quindi potenzialmente potrebbe essere una debacle vediamo un attimino come va ve la faccio vedere un secondo se riesco andrò per farvi capire è molto compatta ma la conoscerete già insomma vediamo torniamo dentro e partiamo qua parlerò veramente poco ragazzi perché è difficilissimo 40 sinistra 5 mezza lunga chiude 3 destra 3 lunga suddosso partiva dopo il mio non tagliare sinistra 5 suddosso oh ancora tantissimo destra 3 40 dosso non scuola più che altro ha un certo ritardo sullo sterzo che col via in padio rende difficile recuperarla in mezzo sul lungodosto sinistra 4 lungo 80 non tagliare 70 attenzione destra 3 lunga 6 mezzo chiude sul dosso 60 lungo dosso 80 può avere molta 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 cautela cominciamo a spulgere un po' sinistra 3 sul dosso non tagliare destra 3 apre lunga sinistra 6 gira destra 4 più che 3 sul dosso ok sfruttiamo un po' qua la motricità per toglierci di impaccio quando rischiamo di andare lunghi perché altrimenti finiamo con la coda tra gli alberi e non è il massimo oh in mezzo sul dosso destra 5 apre sul dosso continua per 130 ho sbagliato marcia è sicuro che col joypad è tutt'altro che facile scodinzolare in mezzo ai gusti però ci proviamo insomma vediamo almeno di arrivare alla fine non perderti eh ci siamo capottati ma una manovra incredibile siamo ancora in pista incredibile non è così è una faticaccia tenerla in strada veramente sentite il rumore del mio joystick che si sta distruggendo sotto le mie mani vai così dai dai due dossi piccoli due dossi piccoli con molta dolcezza lo ha detto sto perdendo ah è così funziona non gasarci troppo perché è un attimo ok ok prego stai dritta è troppo dritta mannaggia ho perso un sacco di tempo è difficile perché bisogna basarci sulle indicazioni perché la vista qua gioca a brutti scherzi non si viene una mazza sinistra 5 tieniti dentro sul dosso 40 destra 4 per la lunga tieniti molto dentro 80 dopo video tornate a sinistra non girarti brava 40 salta al dosso forse 130 molto rotto qui non ha girato come speravo sinistra 5 60 dopo video sinistra 3 apre 60 destra 5 per saluto traguardo ok siamo praticamente al traguardo pensiamo a non impaperarci qui siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine sono curioso vabbè la macchina è devastata ovviamente non poteva essere altrimenti vediamo il miglior tempo fatto online oggi mentre sto giocando è di 3 minuti e 34 cioè mi ha dato praticamente un minuto eh 40 secondi di differenza io non sono particolarmente dotato però di certo giocare col joy in parte non aiuta come funziona adesso si aspetterà tutta la giornata quindi vedremo tutti i giocatori online che giocheranno oggi e alla fine si farà una classifica e dovremo vedere nella media dei giocatori dove ci siamo piazzati e quindi poi in base a dove ci piazziamo ci daranno più o meno soldi speriamo di aver fatto bene perché soldi ci servono io non ho intenzione di continuare a gareggiare con la mini per tutta per tutta la carriera però per ora la mini ce l'abbiamo quindi ci spostiamo nel nostro campionato principale torniamo in Germania Baumholder ci accoglie della cordice di un giorno dovrò capire se sono posti che esistono o no ma la nostra mini sta piuttosto bene direi mettiamo il motore a 100 il cambio lo ripariamo un po' i freni non mi interessano tanto per quello che corre possiamo farne a meno le ruote si e la carrozzeria dei file perché non possiamo presentarci in condizioni poco raccomandabili lo scarico perché il sound è importante e un po' di freni dai ce li mettiamo via via così speriamo di partire bene non sono capace mai di partire rimane là in installo in prima non so come si debba partire per riuscire a non perdere tutto questo tempo vabbè testa giù concentriamoci vieni la destra sul finale piano bene così stupide pietre c'è una curvona facile poi subito una più bastarda qua siamo in discesa quindi possiamo andare di freno a mano senza gli schi e la macchina si impaltani ci teniamo larghi su due marce sbagliatissimo ne ho tirato giù tre e sono arrivato lungo tra l'altro vediamo come siamo al primo intervento intertempo ma non ciò siamo lì con il nostro avversario con il nostro avversario ok andrà già mancava un chilometro all'estra uno destra cinque lunga non tagliare tornante a sinistra non tagliare si apre certo finale 300 su affossamento dai che è tutta dritta ecco lo ho detto stacchiamo qui bene sono imbarcata di prepotenza che stavamo per sfraccellarci sulle rocce da quella stretta tagliamo di cattiveria no i crinali i crinali non li ama la nostra mini fa una fatica terrificante resta in terza bene così pesa molto bene questo occhio al torrentone 16 secondi di vantaggio andiamo in su pleschi eh salo ho un po' mollato mi sa perché abbiamo un vantaggio enorme proviamo di non schiantarci destra cinque continua per cento sinistra cinque continua per cento cinquanta su clina tornante destro non tagliare dov'è il tornante destro eh era più avanti mannaggia ho stato a frenare un weekend prima tornante sinistra aperto non tagliare viene la destra sul tirare certo sono consapezza dopo il film traguardo bene così non tagliare